Wae kooj, ben ritrovati dal vostro AndroLink 91 in questo nuovo video. Questo video riguarda Inazuma Eleven 1 e Inazuma Eleven 2, o meglio, come eseguire l'accesso a internet al Nintendo Network per quanto riguarda Inazuma Eleven 1 e Inazuma Eleven 2. I network per Nintendo DS sono stati chiusi ormai dal 2014 e quindi sembra che non ci sia maniera di poter riscaricare i dati per Inazuma Eleven 1 e Inazuma Eleven 2. O almeno così sembra. Un gruppo di ragazzi ha collaborato insieme e hanno creato diversi DNS per accedere ai network di Nintendo. Quindi, come si fa per accedere ai dati per poterli scaricare? Molto semplice, andiamo a vedere. Come vedete io, avendo un gestore telefonico Team, devo accedere alla mia pagina di gestione del modem per quanto riguarda Team e ovviamente a un indirizzo specifico per accedervi. Se voi avete Team è il classico 192.168.1.1, che sarebbe appunto il DNS di accesso alla pagina del modem di Team. Oppure se non sapete qual è perché non avete Team, basta che cerchiate sul retro del vostro modem oppure sul libretto di istruzioni e troverete l'indirizzo al quale accedere per i dati del vostro modem. A questo punto cosa si fa? I modem sono molto simili tra loro e questa operazione, ragazzi, senza rischi, senza problemi, basta solo un po' di accortezza quando poi dovete appunto risistemare tutto. Ma non vi preoccupate, è molto semplice. Ci tengo però a dire che ho fatto svariati tentativi dal mio telefono per provare ad accedere appunto con l'hotspot di un telefono cellulare, ma non so se è perché è un modello troppo recente e quindi non riesco neanche con il 4G, quindi con la rete mobile, ad accedere né col 4G né col 3G ai servizi per Nintendo DS. Attenzione, è uscito fuori che se riuscite a connettervi con l'hotspot del vostro telefono potrete comunque eseguire l'operazione che andremo a fare sul nostro Nintendo DS o 3DS e scaricare comunque i dati. Però penso che quasi tutti abbiano un modem a casa, il 90% di chi ha una rete internet ha un modem a casa. Quindi per cominciare andiamo su wifi, questo è team, quindi se avete anche voi team basta che copiate pari pari quello che faccio. Scendiamo un pochino su informazioni generali e abbiamo modalità di cifratura. Questa qui ovviamente è la mia password ma la oscuro perché non si sa mai. E mettiamo modalità di cifratura web. A questo punto mettendo web si cambia anche la password, la chiave di cifratura. Una volta messa la chiave web cliccate ok per salvare appunto l'impostazione. E andiamo su Nintendo DS o 3DS. Andiamo su impostazioni della console, quella con la chiave inglese. Impostazioni internet. Connessioni Nintendo DS. Configura le tue impostazioni e andiamo su ok. Impostazioni Nintendo Wi-Fi Connection. Io ne ho già una pronta perché ho fatto diverse prove per vedere appunto se funzionava. Quindi la cancello e la faccio con voi. Vai, sceglietene una, non importa quale. E cliccate A. Ricerca access point oppure configurazione manuale. Andiamo con ricerca access point. A me trovo appunto il mio modem. Clicco ok. Inserisci chiave web. A questo punto cerchiamo appunto la nostra chiave web che abbiamo visto prima qual è il codice e lo immettiamo. Fa una prova di connessione. Se abbiamo inserito la password correttamente. Perfetto. Connessione riuscita. Ora torniamo sempre sulle impostazioni. Cliccate su quella che avete appunto programmato. Scendiamo e andiamo su ottieni DNS automaticamente. Noi mettiamo no. E andiamo su DNS primario. A questo punto io ho salvato un DNS che funziona con i giochi di Nazoom 11. Perché ce ne sono altri che non funzionano con Nazoom 11. Ce ne sono diversi che non funzionano. Mentre questo è l'unico che sembra funzionare. Quindi 172, 104, 88, 237, 237 e via. Salviamolo. Confermi queste impostazioni? Ma certo. Eccolo qua. Il secondo lasciamolo così. E tocchiamo salva impostazioni. In questa maniera tutte le impostazioni che abbiamo cambiato. Ovvero solo il DNS sono salvate. Usciamo e andiamo sul gioco. Io sto facendo questo video testando Inazoma 11 2. Ma perché su Inazoma 11 2 quella volta sbloccai gli oggetti con i codici. Con un action replay. Nella schermata iniziale andiamo su collegamento. Clicchiamo sul nostro salvataggio. Lo carichiamo. E andiamo su download. Mi intendo wifi connection. Vuoi aggiornare le informazioni? Sì. Io non l'ho mai fatto su questo gioco. Quindi avrò la stessa schermata che avrete voi su Inazoma 11 2. Su Inazoma 11 1 ci sarà una schermata diversa. Ma se non l'avete mai fatto. Tranquillamente funziona anche lì. Perché ho fatto appunto diverse prove fino a poco fa per vedere se effettivamente funzionasse. Ecco una volta che ha finito a scaricare i dati. Collegamento interrotto. Download completato. Tocca si per salvare. Se avete già scaricato i dati. Non dovrebbe apparirvi questa schermata che vedete ora. Download nuovi giocatori. Trova il nome di un giocatore nel blog. Contatto all'allenatore Hillman per ingaggiare il nuovo giocatore. Ce ne sono alcuni interessanti. Da quel che ricordo. Come ottenere nuovi oggetti. Li puoi comprare appunto per ottenere oggetti piuttosto particolari. E fine. Ecco come poter scaricare dal network di Nintendo i dati per Inazoma 11 1 e Inazoma 11 2. Potete farlo anche con il Nintendo DS. Il mio S è rigrafato quindi è più bello. Potete farlo anche con il Nintendo DS perché il procedimento è lo stesso. L'unica cosa che appunto io ho fatto l'ho fatto con il DS XL perché ho la capture card appunto installata qui. Quindi ho preferito usare questo perché il Nintendo DS non ho una capture card per DS. Se non avete capito qualcosa del procedimento vi consiglio di un attimo di andare a rivedere quello che ho fatto. E attenzione ora bisogna rimettere però il modem come era prima per evitare appunto le ire dei nostri genitori nel caso i vostri genitori siano piuttosto autorevoli su modem e quant'altro. I miei no perché questo qua lo pago io quindi non ci sono proprio problemi. Torniamo sul modem. Andiamo su chiave web oppure se avete chiuso per sbaglio questa pagina ritornate appunto sulle vostre impostazioni del modem. Wi-Fi, informazioni generali, scendiamo, WPA2. Tacchete. WPA2 o qualunque chiave avevate in precedenza. Si rigenera automaticamente la password e tutto torna come era all'inizio prima di fare questo procedimento. Se lo volete fare anche con i giochi giapponesi di Inazuma Eleven perché Inazuma Eleven 3 giapponese è per il Nintendo DS. Funziona anche se giocate da R4, da emulatori per computer e cellulari e non proprio. Poi se noi andiamo appunto nel blog a vedere se effettivamente ha funzionato tutti quanti i nomi dei personaggi che abbiamo scaricato. Hai scaricato nuovi giocatori e abbiamo scaricato un bel po' di pagine di giocatori ragazzi. Alcuni sono forti, altri un po' meno, ma tutti quanti possono trovare utilizzo nel gioco. Poi hai scaricato nuovi oggetti, doppio trampolino Inazuma, Tripegason, Neo Galax, in mano di luce tripla, chiave magazzino segreto e chiave del faro. Questa serve per andare a reclutare Stoutberg nel faro a Okinawa. A ogni modo Kuj, questo video termina qui. Io spero che vi abbia aiutato un minimo a risolvere questo problema. E come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Ciao!